Ciao ragazzi, oggi voglio date Impol in 7-eleven per capire come ho usato questo Microsoft Reward, cioè sto invitando di Impol a 7-eleven così una roba romantica così potete capire come si usano i Microsoft Reward. Ciao! Ciao! Depp è molto felice quando io vi ho invitato a 7-eleven, credo che sta a rincare ma potete vedere qui ci sono i monti Quindi, siamo fatti con lui Vedi? 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 Vedi app? Dizioso Il coperto Il aiuto Il codice Questo è 他amente E tanto Lo ricordiamo Comunque se siete in Filippina, se siete in Italia, mi sembra che si può fare ZALAND, AMAZON, adesso non mi ricordo gli altri, MCDONALD, cioè potete acquistare, adesso vi sono ricordato, video aggiunti per la XBOX Come si suol dire, due piccioni con una forma, se lo invitano, vedi? Quindi, che ti sverifreni, e io siamo al freno, e ti svegli. E quindi, certo qui il planzetto. So, il viaggio, Borgia! So, what do we have for lunch? So, what do we have today for lunch? Borgia! Burger! Oh, we tried to burger! And we smettere le zetti, and the pemeria, pemeriento, what is that? Pemeriento! And some spicy And chips with Coca-Cola So, buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! It's very cold here Sometimes we need to exit together Thank you Chad for treating us today For my first time because every time we need to listen the first time the veggie burger I'm trying I'm going to try So, also the vegetarian will be content of the channel Then the piment Okay, very social There Nachos No, this, this Zetti Zetti Nacho So, for me Ah, of course Of course All that one For me, Sadam 2,000 And I'm The video Opportunities Watch Subscribe See you in the next video Watch the playlist please Hey! 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 Thank you! That's cool! What is this? Binangkal Yeah, coated with sesame seed Sesame seed And there And this is donut Donuts io bagli anni bichubichu bichubichu filip것 filippine ok lindica qui